Musica Potente appara ragazzi, qua Axel, oggi sono il sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi è il primo e forse ultimo episodio di questa mia nuova serie chiamata My Best Profits Perché ho detto quel nuovo un po' diciamo non molto bene Perché infatti questa qua non è una nuova serie perché l'avevo fatta simile all'incirca un annetto e un quarto fa sul secondo canale Comunque in cosa consiste questa serie? In questa serie vi farò vedere quali sono i miei migliori profitti fatti appunto facendo un po' di compraventa Innanzitutto prima di partire vi volevo dire che in questi giorni i prezzi stanno veramente alzando un macello Proprio perché non stanno più uscendo né Team of the Season né Mane of the Match Quindi meno gente spacchetta e quindi meno carte si trovano sul mercato Proprio per questo motivo uno dei miei consigli è quello di vendere tutto in questi giorni oppure aspettare ancora un po' Comunque partiamo subito Io appunto ho utilizzato moltissime leggende Quindi se voi potete prenderle oppure se le avete utilizzate anche quelle O se no utilizzate i vari Mane of the Match oppure i vari Team of the Season Allora innanzitutto in questo episodio che giocatori ho preso? Mi sono basato come ho già detto sulle leggende E ho preso un Berkham per 1.970.000 crediti Un Kluivert per 1.000.000 E Van der Sar per 1.079.000 crediti Se vi ricordate questi qua erano i giocatori che ho utilizzato per fare quello squad builder amazing Che appunto l'ho fatto durante l'uscita degli Mane of the Match Quindi proprio per questo li ho trovati ad un prezzo così basso Poi altre cose da dirvi sono semplici Ovviamente adesso anche perché FIFA sta andando a finire magari meno gente ci gioca E meno giocatori ci sono sulle aste Ecco per spiegato il loro alto valore se possiamo così dire Ma se no non so se avete visto Proprio le leggende in particolare si sono alzate di un macello Comunque andiamo a vedere che altro giocatore ho utilizzato Ho utilizzato sempre una leggenda Di che leggenda sto parlando? Sto parlando di Daisy Lee Che l'ho pagato 1.649.000 crediti Ragazzi questa serie si chiama My Best Profits Perché farò veramente profitti veramente potenti Ve lo posso assicurare che andremo a vedere a brevissimo Adesso magari dovevo tagliarlo un po' il video Comunque andiamo a vederli Allora qua ecco io li avevo venduti tutti Ecco una cosa da dire che li ho venduti praticamente tutti subito Tranne Daisy Lee che non ero riuscito a venderlo al primo tentativo Poi ho alzato il suo prezzo e addirittura l'ho venduto Perché infatti Berkham sono riuscito a venderlo per quasi 4.000.000 3.999.999.999 Kluivert l'ho venduto a 2.000.000 circa 1.999.999.999 Vandersara ha 1.699.000 E Daisy Lee ha 2.671.000 Perché non ho arrotondato? Perché diciamo la gente è più istigata a comprare se non vede il prezzo tondo tonto Comunque andiamo a fare un po' di calcoli Quanti soldi ho speso? Ragazzi per comprare queste 4 leggende Io ho speso all'incirca 5.698.000 crediti Ma quando le ho vendute ci ho guadagnato 10.369.998 A cui ho dovuto togliere il 5% di tasse E ho avuto un profitto totale di 4.438.000 crediti circa Quindi pensate 4.300.000 crediti con 4 giocatori La cosa mi sembra stratattica Poi ho cambiato account E ho iniziato a vendere giocatori che non mi servivano più Perché magari ce li ho su un altro account oppure non li utilizzavo più E ho deciso di vendere i giocatori che si stavano più alzando in questi periodi Che sono stati appunto Ibrahimovic che l'ho pagato 805.000 crediti Ronaldo che ho pagato 1.300.000 crediti Poi vabbè Robben che ho pagato solamente 112.000 crediti C'è da dire che il prezzo di Robben si è alzato Sì appunto per i motivi già spiegati Ma poi anche perché diciamo l'Olanda è andata bene nei mondiali Che da adesso non ne sono sicuro E poi ho utilizzato James Oames Rodriguez Che ho pagato solamente 185.000 crediti Perché l'ho pagato così poco? Perché l'ho preso appunto prima che facesse quel suo bel mondiale Ma andiamo a vederli per quanto li ho venduti Ibrahimovic l'ho venduto per 1.979.000 Ronaldo per 2.988.000 Robben per 305.000 E Ames Rodriguez per 647.000 Quindi quanto ho speso? Ho speso 2.402.000 crediti per comprare questi giocatori E quanto ho guadagnato? 5.919.000 crediti Quindi per definire il ricavo totale cosa bisogna fare? I soldi guadagnati Meno i soldi spesi Meno il 5% di tasse EA Perché se non lo sapete non ho il via del motivo L'IA toglie sempre il 5% di tasse E qua quanto ho guadagnato? 3.341.150 crediti Quindi potete ben capire che con solamente 8 giocatori Sono riuscito a guadagnare quasi 8 milioni di crediti Quindi ragazzi state molto attenti Controllate i prezzi dei vostri giocatori Appunto che state usando Se sono molto alti Se sono molto più alti di quelli che avete speso per comprarli Mi raccomando vendetelo assolutamente Quindi ragazzi Detto questo non ho più niente da dire Adesso magari farò un altro episodio Nella quale andrò a vendere un macello di leggende Perché se vi ricordate Io ho tutta la squadra di leggende Comunque si vedrà E quindi lasciate un bel mi piace Vediamo se questo video raggiunge i 3 milioni I 3 milioni Sì I 3 mila mi piace Quindi detto questo Io vi saluto E vi dico potente Alla prossima Bolla